Quanto è importante oggi la formazione nel mondo del lavoro e quale opportunità offre? Sono alcune delle tematiche affrontate nel corso del convegno Lavorare nel rispetto dell'etica e della legalità che si è svolto nel teatro comunale di Castelfrentano promosso dall'Assi, dall'associazione sindacale datori di lavoro presente da alcuni mesi anche a Lanciano con una sede territoriale. Il convegno organizzato con il patrocinio dei comuni di Castelfrentano e Sant'Eosanio del Sangro è stato aperto agli ordini professionali di avvocati, geometri, coordinatori della sicurezza, formatori docenti e RSPP, ai quali è stato rilasciato un attestato di partecipazione con l'accredito dei crediti formativi. Tra i relatori il noto gius lavorista Nunzio Leone, esperto in salute e sicurezza. Penso che noi abbiamo una grande legge, il mondo ce l'ha invidia, una legge estesa, inclusiva, coraggiosa, che ha delle premialità. Guardi, sarebbe bello un giorno occuparsi, io sono anche un giornalista, anche i miei colleghi, a cogliere dentro l'81, non la coppia obbligo-sanzione, questo è per l'avvocato, il suo mestiere, ma cogliere la premialità. Per esempio, se uno ha un sistema di gestione e non ha infortuni, paga meno di premio all'INAI, sono soldi che il datore di lavoro trova, quindi c'è la convenienza. Se fa un sistema di gestione, non ha la responsabilità amministrativa in caso di un infortunio, i reati che riguardano noi sono in genere il 589 del codice penale, che è l'omicidio colposo, o il 590 al comma 3, che sono le lesioni personali gravi, cioè l'infortunio in sé. Bene, accanto a questo c'erebbe anche una responsabilità amministrativa per le imprese pesantissima, che secondo me potrebbe mettere in ginocchio qualsiasi società. Bene, se un'azienda ha un sistema di gestione, c'è una premialità della legge, che non ha un'efficacia in simente. L'articolo 30, ma insomma, siamo in delle tecnicalità che vorrei, come dire, in qualche modo affidare alla curiosità dei nostri ascoltatori, così magari ascoltando questo servizio vanno a scuola di formazione, vanno a vedere i centri che fanno queste attività così, come dire, si rendono consapevoli del loro ruolo.